benvenuti a questa nuova puntata di eh Eva il futuro della terra alle donne eh un'iniziativa della fondazione Roberto Franceschi che eh ha costituito un gruppo di persone il movimento ventitré che sono legate da tempo alle iniziative della fondazione e che vogliono aiutare la fondazione nel creare un percorso per arrivare al ventitra gennaio del duemilaventitré il cinquantesimo anniversario della morte di Roberto Franceschi. Roberto Franceschi era un giovane brillante studente della Università Bocconi di Milano venne ucciso in maniera tragica nel millenovecentosettantatré da un proiettile sparato dalle forze dell'ordine e ehm la sua famiglia ha creato questa fondazione che per onorare la sua memoria sostiene tantissimo i giovani meritevoli che vogliono studiare e impegnarsi nella ricerca eh accademica. Eh questo percorso di webinar ha avuto e ha eh una serie di eh tra queste stagioni come si direbbe in gergo televisivo per le serie televisive e quindi abbiamo avuto un primo ciclo coordinato da Benedetta Tobagi ehm intitolato alla ricerca del tempo perduto i ragazzi ai tempi della pandemia. Un secondo ciclo coordinato da Messimiliano Perna incentrato sull'immigrazione e intitolato Eineide eh la storia infinita dei migranti e questo terzo ciclo coordinato da me che sono Eleonora Voltolina che sono una giornalista e faccio parte da mh da qualche anno della CDA della Fondazione Franceschi. Oggi per questa puntata dedicata al gender gap e alle difficoltà che eh incontrano le donne nel mondo del lavoro anche a causa degli stereotipi di genere che ancora sono incardinati nella nostra società abbiamo due ospiti molto speciali eh la ricercatrice Michela Carlana e Alessia Mosca che è stata parlamentare che è docente universitaria e che oggi ci racconterà anche di una nuovissima iniziativa che ha lanciato eh da poco più di un anno. Con loro Michela Carlana è una ricercatrice universitaria che eh oggi è eh professoressa ad Harvard e eh eh si occupa da molti anni con i suoi studi delle tematiche eh di genere e quindi poi io racconterò quando eh nel corso di questa puntata vi racconterò anche un po' meglio chi sono queste due nostre protagoniste. Ma comincio subito rompendo il ghiaccio come sto eh cercando di fare per tutte le puntate di eh questi webinar eh con una citazione da un libro e questa volta vi cito eh un libro di Gabriella Iacomella una giornalista e attivista si chiama 12 parole il eh sottotitolo è storie e pensieri di donne straordinarie per diventare ciò che vuoi essere pubblicato da Feltrinelli ed è un libro che ha come target quello delle ragazze a cui è molto importante parlare prima che in loro si sedimentino gli stereotipi di genere che poi molto spesso le le limitano nelle loro scelte sia di studio sia di lavoro e quindi dice Iacomella nella introduzione cosa farò da grande dunque e magari a un certo punto vi verrà da usare uno di quei nomi eh che ho elencato poche righe sopra eh avete notato una cosa li ho messi al maschile perché nella nostra società e nella nostra cultura quando si parla di concetti generali si usa per tradizione quel genere che in qualche modo ci comprende tutti e tutte o perché e questo è più triste per certi desideri e per certe professioni si pensa inevitabilmente alla versione del maschio il supereroe e non la supereroina il pilota di formula uno e non la pilota di formula uno il calciatore e non la carciatrice e poi un poco più avanti dice proprio come di solito si utilizzano nomi al maschile per definire specifiche professioni però ci avete fatto caso non è poi così diffuso leggere sui giornali la ministra o la commissaria di polizia anche se sarebbero espressioni corrette capita ancora di sentirsi dire magari a mezza voce o con un sorriso per rendere la pillola meno amara che per fare carriera o per realizzare i nostri sogni dovremmo comportarci da maschi o meglio che ci sono alcune caratteristiche in cui potremmo riconoscerci che vanno benissimo per la nostra vita privata con gli amici in famiglia ma meno bene per il lavoro siamo sognatrici e sensibili quindi ci manca il senso della realtà ci piace lavorare in gruppo e scambiare idee quindi non siamo abbastanza competitive siamo femministe quindi entriamo in rotta di collisione con i maschi siamo femminili quindi rischiamo di essere scambiate per superficiali a volte ci sentiamo dire tutto il contrario di tutto siamo troppo disciplinate e non abbastanza creative oppure siamo troppo ribelli e non sappiamo essere strategiche e spesso troppo spesso ci troviamo di fronte a dei no magari mascherati da consigli non è che non puoi fare carriera in aeronautica ma lo sai che è un posto da maschi è bello fare la manager ma bisogna essere molto duri e rinunciare alla famiglia la matematica è interessantissima però si sa che i gruppi di ricerca sono tutti di maschi e ti taglierebbero fuori naturalmente questo libro poi procede nel demolire questi stereotipi per dare una una prospettiva più ampia alle alle ragazze una prospettiva di vera scelta di scelta libera e quindi alle mie due ospiti oggi chiedo un piccolo botta e risposta iniziale per scaldare i motori e quindi a ciascuna di loro chiedo come siamo come percepite che a che punto siamo rispetto a questo percorso verso la demolizione di questi stereotipi di genere siamo bene avanti stiamo facendo tanti passi avanti oppure per ogni due passi avanti rischiamo di fare un passo indietro do prima la parola diciamo in rigoroso ordine alfabetico a michela carlana grazie mille per l'invito ad essere qui oggi allora sono stati fatti notevoli passi avanti negli ultimi 50 anni che non dobbiamo negare attualmente all'università la maggior parte delle delle persone iscritte sono donne in tutto il mondo praticamente in tutti i paesi o i cd countries e d'altra parte anche la partecipazione del mondo del lavoro è aumentata moltissimo eh negli ultimi anni tuttavia ci sono stereotipi di genere che sono veramente ehm eh all'interno della nostra società sin dalla eh prima infanzia se si pensa semplicemente ai diversi giochi che vengono proposti a bambini e bambine al divisione del lavoro all'interno della eh della famiglia che sembra essere l'ultimo miglio per permettere alle donne veramente di avere unico un in uguale eh partecipazione al di là di tutti i progressi che si possono essere fatti a livello eh normativo legislativo eh di di parità e poi gli stereotipi di genere che si perpetuano nella scuola la matematica eh non è un un ambito da ragazze e nel tra arrivare al mondo del lavoro e la divisione eh eh e soprattutto il ceiling last ceiling eh che per me che non permette alle donne eh o ha con molta fatica di raggiungere eh le posizioni apicali quindi progressi fatti che non dobbiamo negare però ancora moltissima strada da fare eh e quest'ultimo miglio dove dobbiamo investire tantissimo. E questo soffitto di cristallo che dobbiamo riuscire a polverizzare. Alessia Mosca. Grazie anche da parte mia per questo invito molto apprezzata. Due eh dati che sono abbastanza eclatanti molto recenti. Eh l'Italia si trova, parlo dell'Italia eh per per fare un focus un po' più preciso rispetto a quello che succede nel resto del mondo. ehm dove sicuramente ci sono ancora dei divari eh ma ehm purtroppo nel nostro paese questi divari specie da un punto di vista di stereotipi sono più forti. Il nostro paese è il settanta al settantasettesimo posto su settantanove paesi Ocse quanto a divario di competenze matematico e scientifiche tra ragazzi e ragazze ed è all'ultimo posto quanto a divario di competenze eh per quanto riguarda ehm l'educazione finanziaria. Cito questi due dati ehm perché sono abbastanza significativi rispetto alle competenze che oggi sono richieste e al tipo di eh ritardo eh che ancora scontiamo eh e su cui io credo sia eh indispensabile lavorare. Non ne cito altri ma ne potrei eh la lista purtroppo potrebbe essere molto lunga eh anche da un punto di vista di posizioni occupate per eh per per esempio quanto a quante sono qual è la percentuale oggi di eh donne manager nel nostro paese eh nonostante una serie di azioni eh che sono state fatte. Quindi io credo che eh sia veramente importante certo riconoscere i passi che sono stati fatti ma non abbassare mai la guardia anzi ehm su alcuni ambiti io credo che sia veramente indispensabile fare uno sforzo enorme perché ancora molta è la strada da fare. Grazie abbiamo scaldato i motori quindi molto bene a questo punto introduco meglio eh la nostra ospite ricercatrice del network della Fondazione Franceschi che comunque eh ci tiene anche molto a rimanere sempre in contatto con tutti i ricercatori che incontra sulla sua strada eh e alcuni dei quali vengono anche ehm eh aiutati nella loro ricerca anche con borse di studio. Quindi vi racconto un po' chi è Michela. Michela Carlana è oggi Assistant Professor of Public Policy alla Harvard Kennedy School eh quindi è immigrata negli Stati Uniti, vive a Cambridge eh sempre all'interno del diciamo di questo microcosmo di Harvard è affiliata al programma Women in Public Policy che ehm si occupa proprio di studi di genere e lavora da molti anni sui temi legati alle ineguaglianze, all'istruzione con un focus sul genere e sull'immigrazione. Si è laureata nel 2012 a Padova e ha fatto un dottorato in economia all'Università Bocconi a Milano e l'anno scorso ha avuto anche una bimba quindi eh nella preparazione nei pochi minuti che precedevano questo l'inizio di questo webinar diceva anche quello che ho studiato per tanti anni e su cui ho scritto paper eh adesso lo sto anche vivendo sulla mia pelle. Quindi con Michela Carlana io volevo cominciare eh parlando proprio di eh di questo tema degli stereotipi di genere. Tu hai eh dedicato proprio dei paper, degli studi e pubblicati su eh su questo tema quindi vorrei che ci aiutassi un po' anche attraverso i risultati che hai che hai che hai raccolto ci aiutassi un po' a inquadrare questo tema dello stereotipo di genere oggi quanto persiste? I stereotipi di genere nascono spesso dall'esposizione che abbiamo culturale quindi come eh diceva bene Alessia eh in Italia c'è un livello di stereotipi di genere molto più alto rispetto eh a altri paesi eh europei o in eh in altre zone del mondo e questo è spesso anche con molte differenze anche tra zone geografiche che sono rilevanti eh per proprio l'accumulazione di eh skills e di capitale umano eh tra diverse zone eh del nostro paese. Allora il primo la prima esposizione che abbiamo agli stereotipi di genere nasce proprio dalla famiglia. Insieme a Lucia Corno eh dell'Università ehm eh cattolica di Milano e di Bocconi del laboratorio di eh antipoverty policy eh della Bocconi abbiamo fatto un primo studio per capire qual è il ruolo dei genitori eh nell'influenzare le scelte scolastiche in ambito STEM versus eh ambito umanistico. E quello che abbiamo trovato che eh c'è una forte influenza delle madri nell'influenzare le figlie verso ambiti eh che sono umanistici. Sostanzialmente la madre tende a pensare che la figlia sia molto più bravia anche rispetto a quello che è obiettivamente nell'ambito umanistico e raccomandargli di più di seguire una carriera in ambito umanistico. E le figlie vengono influenzate fortemente dal pensare alle raccomandazioni dalle eh delle esposizioni a madri con queste forti eh influenze eh nell'ambito umanistico versus l'ambito scientifico. Anche quelle ragazze che sono nella parte più alta della distribuzione di matematica. Anche quelle che riescono eh a essere tra le più brave eh della classe in matematica. E d'altra parte per i maschi invece quello che vediamo è che vengono influenzati molto dal padre e il padre li spinge di più verso l'ambito eh scientifico. Quindi questo porta anche rispetto alle eh ai divari che vediamo in competenze ancora a un allargarsi di questi divari quando si arriva alla scelta del dell'ambito di studio con le ragazze che scelgono di più eh l'ambito umanistico anche se sono bravi in matematica e i maschi che scelgono di più l'ambito scientifico anche se sono bravi eh nell'ambito umanistico composte potenzialmente una sorta di mismatch of talent quindi con talenti che non sono eh veramente sviluppati nella direzione eh e vengono anzi eh diciamo fomentati dagli stereotipi di genere eh che spingono le persone eh a investire di più nell'ambito eh congruente con lo stesso stereotipo di genere eh uomini ambito scientifico donne ambito umanistico. Ci siamo occupati anche del ruolo dei compagni di classe. Perché questo è importante? Perché i nostri ragazzi sono inseriti soprattutto a scuola in un contesto dove hanno molte influenze e c'è l'idea che i loro compagni nei loro amicizi vadano a influenzare eh l'ambito eh di studio successivo. In realtà quello che abbiamo trovato è che le ragazze soprattutto non sono preoccupate da rivelare eh che sono interessate alla matematica, che sono bravi in matematica ai loro compagni. Tuttavia quando sanno che dovranno andare interagire eh con eh soltanto maschi in un ambito scientifico, quindi saranno una minorità nel gruppo di studio, come succede in molte eh in molti licei scientifici applicati dove c'è più matematica, tendono a decidere di stare fuori da quell'ambito. Quindi il fatto di essere una minoranza all'interno del gruppo di studio è una un componente rilevante per la scelta delle studentesse al di là delle materie che vanno a trattare. Quindi per come è organizzato il nostro sistema scolastico dove abbiamo edifici separati o comunque percorsi eh separati alla scuola superiore in base eh alle non solo alle materie ma anche alla che varia la composizione di compagni di classe ci porta a generare una perpetuare il gap di stereotipi di genere perché le ragazze anche bravi in matematica non vogliono essere una scuola dove sono una minoranza e quindi decidono di cambiare percorso e fare qualcos'altro investendo così meno in delle skills che hanno un ritorno molto alto nel mercato del lavoro. D'altra parte in un altro studio pubblicato nel quarterly Journal of Economics eh mi sono occupata dei stereotipi di genere all'interno del mondo della scuola eh in particolare focalizzandoci sul ruolo degli insegnanti di matematica. Quello che ho trovato io lavoro molto nell'intersezione tra economia e psicologia quindi ho utilizzato uno strumento che si chiama Implicit Association Test che è stato sviluppato da degli psicologi ehm in base al quale si riesce a catturare l'associazione implicita di un individuo eh tra ambito di studio e genere. Ho fatto questo test a più di millequattrocento insegnanti in varie eh parti d'Italia e quello che abbiamo trovato è che sostanzialmente se le ragazze vengono esposte ad un insegnante che associa di più la matematica con i maschi finiscono per imparare molto meno in matematica. Lo vediamo nel test in valsi quindi una misura obiettiva eh di capacità in matematica alla fine dell'esposizione dei tre anni all'insegnante imparano molto meno e scelgono molto meno di procedere con percorsi avanzati eh di studio in ambito STEM. Quindi questo ruolo eh c'è una componente insomma del ruolo degli insegnanti che è molto importante al di là e eh oltre al ruolo che hanno le famiglie. Quindi a livello di politiche pubbliche dobbiamo pensare a qualcosa dove possiamo agire, possiamo concretamente cambiare ehm eh eh le istituzioni e e proprio lavorare col mondo della scuola secondo me è una componente fondamentale per aiutare a chiudere questi gap di genere eh nel nel lungo periodo. Michela mi viene subito una cosa ti chiedo, ti faccio una domanda proprio al volo volo. Quando voi fate queste ricerche e quindi verificate attraverso questa questo metodo che hai descritto quanto eh ci siano proprio anche quasi inconsciamente all'interno di alcuni insegnanti degli stereotipi di genere. Poi c'è una fase di restituzione all'insegnante stesso che ha partecipato alla ricerca in modo che magari anche lui o lei possa lavorare su questo suo stereotipo e magari eliminarlo? Sì certo abbiamo dato un feedback a tutti gli insegnanti con informazioni su questi stereotipi di genere e è stato sorprendente vedere quanto stupiti fossero dalla presenza di stereotipi di genere. Nello stesso studio abbiamo raccolto anche gli stereotipi verso gli immigrati eh erano molto più consapevoli dei loro stereotipi verso gli immigrati e pensavano eh che non ci fossero stereotipi di genere quindi con questa misura obiettiva abbiamo mostrato che in realtà la settanta settantacinque per cento degli insegnanti nel nostro campione avevano stereotipi medi o forti ehm che associavano la matematica ai maschi quindi loro stessi erano molto stupiti eh e in realtà ehm ho un nuovo progetto di ricerca che inizierà l'anno prossimo con Eleonora Patacchini a Cornell eh che va proprio a ehm cercare di studiare come dare questi feedback agli insegnanti in modo tale da aiutarli eh a migliorare e cambiare eh il ruolo che possono avere nell'influenzare eh le scelte delle studentesse. No bellissimo veramente fai un lavoro molto molto interessante. Allora adesso vi vi presento la nostra altra ospite di questo webinar Alessia Mosca che ha una lunga eh esperienza politica è stata deputata tra il 2008 e il 2014 e poi ha fatto un quinquennio tra il 2014 e il 2019 al Parlamento Europeo sempre eletta nelle fila del Partito Democratico. In questo momento è docente di politica commerciale europea a Parigi e eh vicepresidente del cielo itinerante che ha questa associazione nuova di cui ci parlerà dopo. Tra i suoi successi politici io ci tengo a ricordare eh una legge del 2011 chiamata proprio Golfo Mosca che è eh una legge che ha introdotto le quote di genere nei consigli di amministrazione di società quotate e a partecipazione pubblica e è una legge che poi negli anni ha creato un terremoto all'interno di questi CDA portando tantissime donne che altrimenti sarebbero rimaste fuori e addirittura facendo anche alzare la qualità media dei curriculum delle persone dei dei membri di questi CDA. È impegnata all'interno dell'associazione fuori quota che è un organismo non profit che riunisce donne manager eh e appunto donne che fanno parte di CDA di società quotate per che fanno vogliono fare proprio delle azioni proattive per l'empowerment del talento femminile e per superare le disparità di genere e poi parleremo però eh nella seconda parte di questo webinar di questa sua novità che è il cielo itinerante e ad Alessia chiedo di farmi do anche con gli spunti che sono già un po' emersi con Alessia chiedo di fare un po' il punto dal punto di vista sia dell'Italia sia dell'Europa su a che punto siamo su questi temi degli stereotipi di genere e cosa si può fare concretamente dentro e fuori la politica per eh combatterli? Sicuramente ehm eh il il tema oggi della eh lavoro sugli stereotipi eh è forse uno dei temi ma non non da oggi in realtà forse uno dei temi più eh importanti eh e più eh eh e anche più difficili su cui eh su cui lavorare perché ehm la cultura quando si parla di stereotipi significa modificare la cultura e modificare la cultura eh è un processo molto lungo eh molto profondo eh che richiede un impegno a trecentosessanta gradi quindi non è sufficiente una singola azione ma bisogna intervenire eh in diversi modi. Cittavi appunto la legge ehm di cui sono stata che ho promosso eh e che ha certamente che ha rappresentato una rivoluzione nel panorama italiano noi eh basti pensare che noi eh come Italia eravamo sui consigli di amministrazione eh uno dei paesi mh peggio messi dieci anni fa la legge ha undici anni quest'anno eh peggio messi perché avevamo meno eh del cinque per cento di donne nei consigli di amministrazione e il consiglio di amministrazione di per sé ha un significato proprio simbolico anche oltre che pratico simbolicamente è il luogo delle decisioni è il luogo del potere perciò per noi eh c'era anche un tentativo di lavoro proprio sugli stereotipi lavorare sulla eh fotografia del tavolo del potere eh poteva immettere nella cultura più diffusa anche una concezione per cui eh possono entrare anche le donne in quelli che erano fino a pochi anni fa considerati luoghi eh totale appannaggio maschile quindi ehm questo questo intervento eh è stato sicuramente un intervento significativo perché come dicevo eh in poco più di dieci anni siamo passati dall'essere eh la maglia nera a livello mondiale ad essere tra i primi cinque a livello mondiale siamo diventati un caso di studio perché la rapidità con cui il cambiamento è avvenuto è stata eh imbattuta eh non si è verificata mai in nessun altro posto al mondo ehm e noi abbiamo avevamo preso spunto da altre leggi simile alla nostra pochi anni pochi pochi mesi prima eh della Golfo Mosca era entrata in vigore in Francia la Coppe Zimmerman che di fatto è la la versione francese della Golfo Mosca ma in Francia non c'è stata si partiva diciamo da una situazione più eh favorevole e il la velocità del cambiamento non è stata così ehm come quella che c'è stata in Italia ma questo non è stato sufficiente eh perché moltissimi degli stereotipi degli stereotipi sono ancora presenti e quell'effetto contaminazione positiva che noi speravamo potesse intervenire non si è verificato eh perché appena ancora oggi allarghiamo lo sguardo al di fuori di quelli che sono eh i luoghi a cui si si applica ehm il testo della legge ci ritroviamo di nuovo ad una situazione molto eh molto eh arretrata quanto a diversità e quindi sicuramente eh non è non è sufficiente un singolo intervento normativo per quanto dirompente possa essere per fare un cambiamento vero da un punto di vista culturale di stereotipi ehm e quindi io credo che sia veramente importante alla luce di quello che abbiamo visto eh accadere avere un un approccio che sia olistico come si dice in questi giorni che sia omnicomprensivo che intervenga a partire dai primissimi anni eh di età dei bambini dalla scuola dai genitori nelle aziende e e quindi che ci sia la capacità davvero di avere una una visione comprensione omnicomprensiva e chiudo questa prima parte di risposta poi entreremo appunto nel descrivere ehm l'azione dei genitori ideante chiudo dicendo che eh la uno dei grandi temi e uno dei grandi focus che secondo me oggi dovrebbero essere presi in considerazione più di quanto non abbiamo fatto negli ultimi anni sia quello di lavorare anche sugli stereotipi maschili perché non si può modificare una cultura e non si possono modificare gli stereotipi e il ruolo che le donne hanno nella nostra società eh se in parallelo non si cambiano anche gli stereotipi che ci sono sono molto presenti e molto più radicati nel nostro paese che altrove nel tipo di caratteristiche che i ragazzi e gli uomini devono avere oltre che del ruolo che eh devono avere a livello di eh responsabilità economiche e sociali che poi è anche si ricollega perfettamente a quello che diceva Michela Carlana prima sul fatto che il padre spinge il figlio bravissimo magari in materie umanistiche a studiare al liceo scientifico o a iscriversi ad una facoltà scientifica all'università anche se magari porrello lui non vorrebbe avrebbe tutti altri talenti e tutte altre aspirazioni penso però che questo assist che mi ha dato Alessia sia importante perché uno dei più importanti stereotipi eh dal sul fronte maschile che noi eh vediamo viviamo e che eh opprime opprime il mercato del lavoro e eh determina questi tassi molto bassi di occupazione femminile è lo stereotipo della cura della prole cioè il fatto che quando le donne entrano nel mercato del lavoro molto spesso vengono vessute dal dalla parte datoriale come delle bombe a orologeria per il solo fatto di avere un utero e quindi di avere la possibilità in futuro in un futuro diciamo ipotetico di poter mettere al mondo un figlio e quindi non solo di avere il tema della gravidanza e del parto ma anche poi di essere in qualche modo con la lettera scarlatta che invece la di adultera la M di madre e quindi che poi il suo la sua produttività sul lavoro la sua attenzione al lavoro non sarà mai più la stessa per il fatto che la sua priorità a quel punto sarà il figlio e quindi qui si innesca lo stereotipo di maschile che diciamo impedisce a molti uomini di poter vivere appieno la propria paternità di prendersi cura della prole con la stessa intensità delle madri che diciamo al di là del parto e della proprio della fisicità dell'allattamento in realtà tutte le attività di cura dei dei bambini possono tranquillamente essere svolte da entrambi i genitori quindi se noi riuscissimo a scardinare questo stereotipo potremmo è uno degli stereotipi che danneggia di più le donne nel mondo del lavoro e quindi in questa seconda fase diciamo di questo nostro webinar io vi vorrei sollecitare sul tema di che cosa succede poi quando le ragazze le donne arrivano con delle competenze non così tanto richieste nel mondo del lavoro o magari arrivano anche con delle ottime competenze ma si scontrano con un mondo del lavoro che ha dei preconcetti sulla sulla capacità delle donne di svolgere determinati mestieri di svolgerli bene di svolgerli se poi anche diventano madri michela vorrei citare un studio molto recente che è stato fatto in spagna con l'impatto di lungo termine dell'inserimento del paternity leave quindi della paternità per gli uomini e quello che hanno studiato è stato in particolare l'influenza sulle norme di genere dei figli che sono stati esposti da padri che sono stati a casa con loro e li hanno accuditi di più e quello che hanno visto è questa libertà de gonzalez e altri ricercatori a upf hanno trovato che questo ha un impatto sulle giovani generazioni con i figli che sono stati esposti a padri che hanno preso la paternità che hanno delle norme di genere molto più liberali e sono quando gli si chiede all'età di durante l'adolescenza se pensano di quanto pensano di accudirsi loro stessi dei figli quando avranno figli loro dicono che vogliono accudirsi tanto quanto le ragazze quindi diciamo che porta quasi a una chiusura del gap nella percezione di nel desiderio di prendersi cura dei propri figli cosa che invece nel gruppo che non era stato esposto a questa riforma si vede come ancora molto ampio quindi secondo me molto c'è da fare e molto c'è da fare anche con alcuni step in questa direzione certo la paternità non chiude completamente il gap perché ci sono anche molti paesi anche paesi scandinavi dove si vede che la divisione del lavoro all'interno della famiglia è ancora con un grosso peso sulle spalle delle donne nonostante l'inserimento di lunghe paternità quindi questo sicuramente non cambia completamente le norme però diciamo che ci sono degli studi che mostrano che almeno aiuta a fare qualche piccolo step nella direzione giusta per cercare di coinvolgere di più gli uomini come dicevano all'inizio in realtà l'ultimo miglio sarà veramente all'interno delle norme di genere della famiglia la divisione del lavoro e rendere più consapevoli gli uomini su una parità nel lavoro di all'interno della famiglia e a questo avrà ripercussioni fortissime su quello che succederà all'esterno della famiglia nel mercato del lavoro quando tu pensi agli a quanto la parte datoriale ancora affronta le candidate donne con questi stereotipi di genere dentro la testa anche al di là della anche del al di là dei possibili figli no quest'idea che le donne non possano fare determinati mestieri che non siano attrezzate anche a livello di carattere no di capacità caratteriali per fare determinati mestieri come si come si distrugge questa 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 stupidaggine poi se vogliamo dirlo in realtà sono le norme sociali sono molto difficili da distruggere quindi bisogna un passaggio alla volta cercare di fare qualcosa in quella direzione quindi avere delle donne che siano role model per altre delle giovani generazioni aiuta e le quote è proprio la legge che alessi ha aiutato a inserire sicuramente porta uno step è in quella direzione ma non sarà completamente eh risolvere il problema bisogna anche mostrare ai datori di lavoro eh quanto ehm che le donne in realtà sono in grado eh ritornando dalla maternità di avere lo stesso livello di produttività di prima o almeno avere lo stesso livello di produttività di un padre eh eh quando ha un figlio eh che ha un anno e mezzo quindi cercare di dimostrare anche con i dati eh io da ricercatrice è questo che vedo come eh eh come una delle soluzioni quindi cercare i cambiamenti legislativi e come si può dimostrare alle aziende eh che hanno un problema innanzitutto fagli vedere nei loro dati il problema che c'è e poi fagli vedere come questo può essere risolto eh come come tipo role modeling intervention e permettere un'interazione che faccia vedere che quel mercato quell'ambiente di lavoro è un ambiente di lavoro che permette ehm di mettere insieme di conciliare sia eh famiglia che lavoro non devono rinunciare alla promozione eh se vogliono fare carriera quindi questi sono tutti i step che il dottore di lavoro e HR eh possono sicuramente spingere all'interno delle aziende. Quindi costruire un mercato del lavoro più più aperto diciamo all'uguaglianza però ecco il tema ovviamente si ritorna un po' indietro perché il tema è che molto spesso le donne arrivano adulte al mercato del lavoro con un con il bagaglio di competenze sbagliato fermiamo fermiamoci subito qua io dico sempre nei miei interventi pubblici che i filosofi i musicisti dovranno sempre esistere peraltro Alessia è pure laureata in filosofia se non ricordo male quindi cioè se c'è un afflato verso una materia specifica eh umanistica completamente slegata diciamo dal mondo del lavoro e della tecnologia attuale però c'è una una passione un talento un'aspirazione di una persona che sia maschio che sia femmina verso quella materia lì io sono la prima che dice segui il tuo sogno però noi dobbiamo fare i conti anche con una grande una grande quota di persone che non scelgono e non hanno le idee così chiare a tredici anni quando scelgono la scuola superiore o a diciotto quando scelgono l'università o di entrare nel mondo del lavoro direttamente e quindi abbiamo una grande quota di persone che non avendo un'aspirazione specifica un un sogno scelgono molto in base anche alle spinte che hanno no ai consigli che ricevono e quindi abbiamo tantissime donne che arrivano con delle competenze che non sono così richieste dal mercato del lavoro mentre le competenze che oggi e che domani saranno più richieste che sono le cosiddette competenze stem invece eh sono molto più spesso ehm avute dai maschi che invece sono stati quasi sempre incoraggiati a fare quel tipo di studi ad acquisire quel tipo di competenze ed è proprio su questo che si si basa credo il l'obiettivo eh finale dell'associazione che Alessia Mosca ha contribuito a fondare l'anno scorso che si chiama il cielo itinerante e di cui diciamo vorrei sentire qualcosa di più perché secondo me si prefiggono di di fare qualcosa che avrà un forte impatto su sui bambini e le bambine che saranno poi i giovani di domani. Sì ehm siamo proprio partiti da questa considerazione eh che veniva citata in modo differente negli interventi precedenti eh non c'è nessuno che è portato per la matematica per la scienza dipende da come lo si porta eh quindi dipende da che tipo di eh contesto e da che tipo di eh modelli dei quali sono appunto le spinte che vengono e e la modalità con cui eh queste i ragazzi sono esposti alle alle diverse eh materie di studio. Eh siamo partiti poi dalla da quella considerazione drammatica che si è che è diventata ancora più drammatica dopo i due anni eh di dad ehm cioè del divario che si è ulteriormente accentuato nella eh nelle competenze specialmente scientifico matematiche e pure da questa considerazione che giustamente tu sottolineavi ad Eonora eh per cui eh non stiamo promuovendo un mondo in cui tutti devono eh avere competenze matematico scientifiche e dimenticare eh le le competenze invece umanistiche artistiche o di altro genere che sono e continuano ad essere estremamente importanti ma oggi siamo in un mondo in cui non avere una ehm una alfabetizzazione matematico scientifica qua anche di base ti fa essere un cittadino di serie B come era un un secolo fa non avere la capacità di leggere e scrivere perché oggi sempre di più siamo in un mondo in cui e l'abbiamo visto sulla nostra pelle ai noi eh quanto avere anche una infarinatura di competenze matematico scientifiche sia indispensabile se si vuole avere il pensiero critico e la capacità di essere davvero dei cittadini capaci di eh partecipare a tutto tondo alla nostra a contribuire e contribuire alla nostra società da qui siamo partiti da questa considerazione siamo siamo partiti per ehm questo che è un tour un nostro tour abbiamo mutuato in realtà un'idea eh di una astrofisica eh africana Susan Murabana che è la presidentessa del nostro comitato scientifico ehm e che con il marito ha messo dei telescopi sul eh suo sulla sua macchina e ha girato per i villaggi del Kenya eh per far vedere le stelle ai bambini che normalmente non le potevano vedere eh abbiamo fatto la stessa cosa abbiamo messo quattro telescopi su un camioncino e siamo andati nei posti eh dove c'è maggiore difficoltà ehm educativa maggiore fragilità maggiore abbandono scolastico e maggiori maggiori divari maggiori diseguaglianze per fare vedere le stelle ai bambini ehm eh attraverso il telescopio perché le stelle perché da sempre l'osservazione dell'universo da che mondo è mondo ha portato un avanzamento della dell'umanità da tutti i punti di vista non solo matematico scientifico ma anche eh se vogliamo filosofico religioso artistico perché eh l'osservazione del cielo l'osservazione dell'universo ha sempre ispirato e ha fatto nascere il desiderio di migliorarsi quindi quello che noi speriamo e abbiamo cercato di fare in questi due anni al momento è in corso il secondo tour eh è quello di eh istillare il desiderio istillare all'interno di questi eh ragazzi che sono ragazzi la fascia d'età alla quale noi ci rivolgiamo eh la fascia società tipicamente delle medie eh istillare in loro il desiderio eh di poter di voler andare oltre la propria quotidianità quindi superare gli stereotipi superare l'idea che il loro destino sia determinato in qualche modo e dare loro l'idea invece che possono prendere in mano il loro destino e decidere quello che eh vogliono continuare a fare quello che vogliono approfondire quello che vogliono eh studiare ehm e in questo modo cerchiamo di dar loro quindi di di gettare qualche seme eh che poi deve essere eh coltivato e che può portare quindi speriamo ad una riduzione di questi eh di questi stereotipi lo facciamo anche consapevoli del fatto come abbiamo più volte detto nella nostra conversazione che questo si può fare eh non solo attraverso dei role model di eh persone eccezionali che lo sono sono importantissime ma che eh talvolta non sono sufficienti per far scattare questo eh meccanismo di emulazione perché Samantha Cristoforetti che è un esempio eccezionale che peraltro ha sposato la nostra causa e ci ha scelti come la sua associazione di riferimento eh per il tutto il suo programma education in questo periodo in cui lei si trova eh sulla stazione spaziale internazionale ma Samantha Cristoforetti da sola non può far scattare il desiderio di emulazione perché anzi talvolta nei bambini eh la reazione è sì ma non ce la farò mai lei è troppo è troppo lontana da me è sullo spazio figuriamoci quello su cui noi cerchiamo di lavorare è contemporaneamente la creazione di role model di prossimità quindi abbiamo creato in parallelo al nostro tour è un corso quest'anno abbiamo fatto il pilota e l'anno prossimo invece avremo l'accordo con tre università per formare formatori sia studenti universitari di materie scientifiche a cui insegniamo come divulgare la scienza ma e questa è anche una novità che proprio va in linea con quanto dicevi tu a Eleonora prima ehm eh formiamo divulgatori scientifici tra gli studenti di materie umanistiche eh perché diamo l'idea che parlare di scienza e occuparsi di scienza divulgarla essere dei role model eh per ragazzini un po' più giovani eh lo si può fare a prescindere dal tipo di studi che poi si eh decide poi di intraprendere di eh di approfondire in modo particolare ma può essere una competenza in più e soprattutto nel mondo in cui noi eh ci troviamo sappiamo bene come avere la flessibilità mentale di abbracciare diverse eh materie e di ehm e di eh avere un po' di competenze se si è degli scienziati un po' di competenze umanistiche di soft skills e viceversa se si è degli umanisti un po' di competenze eh scientifiche è la chiave per poter districarsi nel mondo in cui ci troviamo e soprattutto eh trovare nuove soluzioni eh perché lo vediamo tutti i giorni il nostro pianeta il nostro mondo ne ha assolutamente bisogno. Quindi un mix diciamo di competenze scientifiche e umanistiche. Io vorrei chiudere questo nostro webinar di oggi chiedendo a Michela di raccontarci in qualche minuto di questa ricerca che se ho ben capito di cui una parte esiste già e che poi c'è anche un progetto di ricerca successivo previsto che si chiama Hacking Gender Stereotypes Girls Participation in Coding Clubs. Quindi l'idea di questo eh di questo grande eh di questo grande field dell'informatica che è ancora così ostico per i giovani eh io ricordo che eh un paio di anni fa appena prima della pandemia abbiamo abbiamo fatto con la Repubblica degli Stagisti che è la testata che io dirigo una ricerca insieme a Spindox che è una società di consulenza informatica una ricerca tra l'altro realizzata in collaborazione con l'Istituto Toniolo il rapporto giovani quindi comunque con una grande competenza sull'interrogare i giovani e abbiamo sviscerato il tema del perché i giovani non studiano informatica e soprattutto perché le giovani donne non studiano informatica e abbiamo quindi in qualche modo aperto un vaso di Pandora tra l'altro al alla fascia di età più più alta del nostro campione che andava mi pare fino ai trentacinque anni abbiamo chiesto se avessi saputo se ti avessero detto quando eri molto giovane che le competenze informatiche erano così richieste dal mercato del lavoro e che quindi avresti potuto trovare più facilmente lavoro avresti preso in considerazione l'idea di studiarle e abbiamo avuto una percentuale veramente molto alta adesso dico intorno forse al 40 per cento di donne in quella fascia di età là che invece che ci hanno detto ebbene sì se me l'avessero detto prima ecco. certo in realtà si collega benissimo al al progetto che appena discritto che appena spena stato descritto questi coding clubs io collaboro con l'associazione officina futuro quindi mi occupo della ricerca scientifica dietro al progetto che loro implementano l'idea è stata molto semplice sostanzialmente sono resi conto che non c'erano ragazze con coding skills che potevano anche partecipare colloqui di selezione per essere prese dalle aziende quindi loro secondo me in maniera molto intelligente hanno deciso di dire ok partiamo prima partiamo dalla scuola media e cerchiamo di mostrare sin dalla scuola media che cosa significa fare coding e che coding non significa fa è soltanto ambito scientifico ma proprio questo che questo unione tra soft skills capacità di comunicative e coding è che è quello che avrà il ritorno più alto nel mercato del lavoro è quello che viene mostrato all'interno del progetto e il progetto è parte di girls code it better quindi sono dei coding clubs che vengono implementati in circa 60 scuole in tutta italia dove le ragazze si ritrovano per una cinquantina di ore durante il pomeriggio con dei maker e degli insegnanti che vengono dei maker inviati dalle aziende locali e insegnanti che vengono formati dal progetto su project based learning quindi loro decidono un progetto che abbia un ritorno per la scuola e per la società intorno a loro lo implementano quindi hanno loro l'idea su che cosa fare e insieme a questi maker e insegnanti formati sviluppano i codici che permettono di creare delle app che permettono di fare una stampa tra i diri degli oggetti fanno sviluppare dei siti web quindi fanno tutto quello che è necessario nei vari step sottostanti e ancora basato su un progetto cioè non mostrando che il coding è qualcosa di astratto ma di quanto sia concreto e quanto possa concretamente aiutare a risolvere dei problemi quotidiani attualmente questa è parte di una ricerca e abbiamo appena avuto i dati per studiare l'impatto di medio periodo di queste prime ragazze che hanno partecipato alle prime edizioni e abbiamo trovato sostanzialmente un raddoppio della loro probabilità di frequentare il liceo scientifico quindi sostanzialmente questo ha veramente il mostragli che cos'è il coding porta un cambio effettivo su quella che è la loro scelta scolastica e sugli investimenti che loro vanno a fare e d'altra parte abbiamo visto che anche semplicemente nei test invalsi o nelle capacità in matematica in particolare c'è stato un incremento molto forte quindi chiudendo sostanzialmente il gap con la media dei ragazzi quindi queste ragazze che hanno partecipato ai coding clubs stanno facendo molto meglio in matematica e quindi sono state stimolate a investire di più in questo in questo settore quindi il coding club non gli ha insegnato nulla per fare meglio i test invalsi però sono state diventate più curiose se sono impegnate di più su queste materie e non l'abbiamo visto seguendole sulla ricerca e i dati amministrativi quindi a me questo ha dato molta fiducia non ci sono ancora risultati pubblici di questa parte perché proprio abbiamo appena fatto le prime regressioni le prime analisi per vedere l'effetto però mi rende veramente molto ottimista che questi interventi fatti molto presto in età prima della scelta della scuola superiore possano avere un impatto sostanziale per la chiusura del gender gap per le prossime generazioni quindi possiamo dire che anche dagli studi di michela carlana il fatto che le ragazze non siano capaci di programmare è una bufala le prime computer scientists erano tutte donne era un ambito femminile prima che fosse un ambito molto remunerativo e preso come un ambito assolutamente maschile è una di quelle di quelle occupazioni dove le donne possono gestirla anche facilmente nel senso all'interno dell'ufficio non c'è bisogno di forza manuale che è una delle scuse che viene spesso data perché le donne non entrano in certi in certi settori computer coding è il perfetto esempio di una di un settore da donne gra allora io ringrazio tantissimo le mie ospite michela carlana alessia mosca e ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito per questo webinar ringrazio la fondazione franceschi che ha ideato tutta questa serie di webinar e il movimento ventitré che sta coordinando tutto questo lavoro grazie mille e alla prossima grazie a voi grazie mille